Amici di Tutto Campo, ricomincio la settimana del calcio direttore. Tanti su TV 12, lunedì è il momento delle sintesi, vi guido rapidamente dalla prima categoria alla serie D, prima categoria ci sono tre squadre nei tre gironi che hanno il primato solitario, il Teor lo guadagna questo fine settimana battendo il Barbeano, 13 punti primo da solo sopra al Vivai a 12 e appunto il Barbeano è rimasto fermo a 13. Nel girone B di prima categoria 15 punti per il Deportivo Junior, sotto ci sono la Serenissima, 13 ma anche un tagliamento che sta facendo benissimo. Attenzione prossima settimana, fine settimana c'è Depo, Serenissima, scontro diretto e nel girone C primato solitario del centro sedia a 12, dietro spingono però o Piccina ma anche Breg. Vi faccio vedere, 9 gol, il 4 a 0 del Teor e il 4 a 1 del Breg sulla Roianese, quindi lo scontro diretto di prima A e nel girone C il Breg che prova a guardare in alto con del vecchio protagonista di una tripletta. Servizi! Dopo aver battuto il Rivignano e il Vivai Gravis, il Teor di mister Berlasso sfida il Barbeano che è partito molto bene e condividono il primato a 10 punti. Si parte però con il Teor che si guadagna questo calcio di rigore, fallo di Donda su Osagede dal dischetto, cabine non sbaglia e fa 1 a 0. Attenzione a questo cross di Leiba, cabine di testa, bravo Pavanga da allontanare, smanacciare, ci prova allora con questo destro Zanette, attento Benedetti, poi aiutato dalla difesa, ancora Osagede che va via, sempre a Donda che lo stende ed è ancora calcio di rigore, Stavolta però cabine prende il palo, poi mette in rete, ma ovviamente viene annullato la fondo dalla sinistra di Battistin, deviazione di Dreosto ed è 2 a 0. Nella ripresa lancio di Visentini per cabine ed è la sua classica giocata, la finta e poi il gol del 3 a 0. Arriva anche il poker con Osagede che serve con Radin in più che sospetto fuorigioco, il numero 7 va via e mette in rete il 4 a 0 finale, spazio però anche per una parata bellissima di Pavang che mette in angolo il destro ravvicinato di Venier. Il break batte la Roianese che passa in vantaggio con la bella girata di Fra Giacomo, il pareggio Viezzoli a terra del vecchio, lo stesso numero 10 dal dischetto fa 1 a 1, poi il 2 a 1 l'assist di Giuresi per il gol di Pertosi, Pavlidis e attento sustainer, bella parata, poi il break di Laga con la doppietta di Del Vecchio, prima approfitta di un errore difensivo e poi mette in rete di testa l'assist di Cardi. In questa prima categoria girone C dove corre il centrosedia che batte di Zonzo 3 a 2, Breghe e Opicina a 10 punti inseguono. È il momento della promozione, andiamo a vedere cos'è successo nel girone A dove guida il Pordenone. Tris di servizi. Al Comuzzi il Cussignacco di Moreno Caruso reduce dalla prima sconfitta in campionato contro il Pordenone ospita un lanciato Corva di Luca Perissinotto reduce da due vittorie consecutive. Che il vento tiri a favore della formazione di Casalo si vede già dai primi minuti con il Cussignacco pericoloso con questa conclusione di Colauti prima e poi con la punizione alta da parte di Osso Armellino. Corva brutto, irriconoscibile e che si fa vedere solamente a Sprazi qui la conclusione alta di Dei Negri da posizione defilata. Gioca bene il Cussignacco qui questo bello scambio tra Balzano e Gioni che porta al tiro del numero 10 che termina lato. Preludio al vantaggio meritato da parte della formazione di Casalo Cross preciso di Cauto per il colpo di testa di Pascutti lasciato colpevolmente solo colpisce l'attaccante di Casalo. Cussignacco che legittima il proprio vantaggio e si rende ancora pericoloso con questo destro volante da parte di Silveira che termina alto. Corva che trova il suo primo e unico tiro in porta con Caldarelli nel finale del primo tempo. Ciani dice di no. Non succede niente poi fino all'ottantatresimo quando il colpo di testa di Gianni su punizione laterale battuta da Silveira termina dentro per il 2-0 dei padroni di casa. Qui la disperazione di Luca Pessinotto in panchina. Il Corva non riesce a rendersi pericoloso. Qui il tiro senza pretese di Caldarelli è lo specchio della partita dei Pordenonesi. Il match termina così. Con la vittoria da parte del Cussignacco sorride Moreno Caruso che torna immediatamente alla vittoria. Oggi abbiamo fatto una partita perfetta e guarda si sta allenando sempre bene su quello. Io non posso dire niente. Oggi finalmente ci si è vista un po' più di terminazione da parte davanti. Di voler fare gol. Sappiamo che il campionato è duro, durissimo. Ogni partita dovremmo mettere questa intensità qui. Polonia torna a Buia contro Odri che ha un passato in giallorosso di tutto rispetto. E la sfida degli ex è il derby. Buiese-Gemonese si parte con l'occasione della Buiese. Boccutti spara alto. Poi il sinistro cercare l'incrocio di Buzzi. Non va. Attenzione a Kogoi che va via. In velocità. Sulla destra. Il diagonale fuori. Si dispera Kogoi. Poi Bianchi altro a fondo decisivo. L'intervento di Devetti. L'episodio che probabilmente svolta la partita. La scivolata di Kogoi che vale il doppio giallo. E Gemonese in dieci. Torre in attacco nella ripresa. La Buiese con un tiro da fuori. E poi il gol decisivo di testa. Michelutto anticipa tutti. E mette in rete. De Monte non riesce a deviare. 1-0. Bravo poi De Monte a deviare. La conclusione di Ponton. E mettere in angolo il colpo di testa di Vidotti. Alla fine esulta la Buiese. Il presidente Peretto. Entusiasta. Questi valgono sui punti. Questa è una persona che vale sui punti. Normalmente oltre che alla classifica. La felicità dell'ex Dri nelle immagini. Mentre Polonia cerca di trovare lati positivi. E dare fiducia alla sua. Gemonese. Ne esce che oggi siamo stati per la prima volta. Almeno da quando sono io qua. Squadra. E' chiaro. Il risultato. Una vittoria sicuramente darebbe. Come a tutte le squadre. Morale. Fiducia. E quant'altro. Però questa vittoria. Noi ce la dobbiamo ricercare. Sappiamo quali sono i nostri limiti. Dobbiamo lavorare su quelli. Il campionato è lunghissimo. E quindi c'è tutto il tempo ancora per rimediare. Il Pordenone mostra i muscoli. E vince con carattere contro un ottimo Martignacco. Qui restano solo i complimenti. Però bello. Il filtrante di Catunar per Ibrahimi. Attento Zani è il protagonista di giornata. Attenzione. In area. La trattenuta di Sartore sulla via. L'arbitro fa giocare. E allora là davanti ci prova Toffoli con il destro. Attento Ganzini. Sempre il portiere risponde presente. Sura conclusione di sinistro di Zanin. Nella ripresa il Martignacco prova a far male. Con un colpo di testa dall'altra parte. Calcio d'angolo che mette i brividi a Ganzini. Poi l'episodio del possibile vantaggio dell'Union. C'è un fallo di mano di Meneghetti. Dal dischetto si presenta Nobile. Ma Zanin salva il Pordenone che prova a trovare allora il vantaggio. Qua Catunar salva su Borsato. Ma la palla inattiva dopo trova Borsato pronto a mettere in rete il gol della vittoria. Il Pordenone vince così di misura ed esulta con il suo pubblico che continua a colorare ogni trasferta. Nel girone B di promozione sempre in testa la varia Mortea che batte 3-2 il Fiumicello. Bene anche il corno calcio che batte 2-0 il Ronchi. Ha riposato la Forum Miuli. Sotto a 12 punti ci sono Sevegliano Faugli e Trieste Victory. Vi faccio vedere proprio come sono andate queste squadre che provano ad inseguire là davanti chi sta correndo tanto. Abbiamo cercato di visionare anche altre realtà. Vediamo questi due servizi di Gabriele Foschiatti. Il Sevegliano Faugli torna a vincere dopo due pareggi per 0-0. Lo fa sul prato del comunale di Pavia di Udine, casa dell'Ancona Lumignaco, che rimane invece ferma a quota 3 punti in classifica. La partita degli ospiti si fa subito in salita perché su questo contatto durissimo tra Carbone e Guerin il numero 10 è costretto a lasciare il terreno di gioco. La botta al ginocchio lo costringe a uscire zoppicante. Tutto bene invece per Carbone che continuerà la sfida. L'infortunio del numero 10 è un duro colpo per Mr. Johan, che già ha la panchina molto corta. Al suo posto entrerà il numero 13 Belgasem. Pur privo del suo numero 10 il Sevegliano Faugli sa sbloccare le marcature. Lancio di Guobadia sulla sinistra dove lo aspetta Fiorenzo. Il numero 9 fa secco. Dovier batte anche il raddoppio di Pittini e con il destro, forse non irresistibile, batte pure Cicuti. Il portiere non arriva su questa conclusione. Per lui ci saranno problemi fisici. Sarà sostituito nella ripresa. Ripresa dove ancora Fiorenzo ha scatenare il panico. Bertè prova a fare a sportellate con il numero 9 ma perde il contatto con lui. Palla persegato che calcia forte. Grande intervento in scivolata di Carbone che evita il peggio. Pittini dalla bandierina crea la prima vera occasione invece per i padroni di casa. Impatta bene dietri ma incredibilmente il pallone termina a lato. Sarà quindi ancora il sevigliano Foglis a trovare il gol al termine di un'azione veramente confusa in cui un po' tutti toccano questo pallone. Alla fine è segato a servire la sfera decisiva per Fiorenzo che sigla con il mancino la sua doppietta. Nel rientrare ad esultare verso la panchina il numero 9 fa un gesto che viene interpretato come provocatorio dal direttore di gara. Nei suoi confronti viene estratto il secondo cartellino giallo e il numero 9 deve quindi lasciare l'incontro subendo anche lo sfotò della panchina avversaria. Forte della superiorità numerica l'Ancona prova a riacciuffare la sfida ma Tomada spreca subito una grande occasione su questo suggerimento di Yetri. Subito dopo gli padroni di casa riescono a costruire un'altra chance questa volta con il destro di Marcuzzo subentrato nella ripresa dalla distanza ben neutralizzato da Ciroi. E' sempre il numero 19 a pennellare poi per l'ultima vera occasione della sfida palla verso Yetri anticipato in spaccata da Ferrari adattato terzino per l'occasione da Mr. Johan. La sfida quindi sorride al Sevegliano che fa festa e si rilancia in classifica arrivando a quota 12. Quinto KO consecutivo invece per l'Ancona che rimane ferma a quota 3 punti. Una San Giorgina affamata di punti in chiave salvezza ospita una Trieste victory che ha bisogno di un successo per tenere il passo delle big nel girone B di promozione. Nesce una partita combattuta frammentata per larghi tratti del match che termina 1-1 un risultato che non fa troppo piacere a nessuna delle due contendenti. La prima occasione del match è costruita dagli ospiti con l'asse Oti Canovò. Il numero 7 riceve largo sulla sinistra dal compagno, salta Seccodri, entra in area, vince un rimpallo e con una conclusione a metà tra un tiro e un servizio per la corrente Loperfido fa tanta paura a Pulvirenti. Con il passare a dei minuti i padroni di casa alzano la pressione e sfiorano il vantaggio alla mezz'ora. Furlan sbaglia il disimpegno sul retropassaggio di Santoro e Rossi carica il destro che termina però sul montante. Poi Cuoy prova a correggere la rete ma non è preciso. È sul finale di tempo però che i Granata sfiorano veramente il vantaggio. Gran recupero di Drey che poi imbuca per Madonna. Il numero 10 a 2x2 con Furlan prova a batterlo con un diagonale destro ma il pallone termina di un soffio sul fondo. Il gol però è nell'aria e basta aspettare 5 minuti nella ripresa per vedere il risultato finalmente sbloccarsi. Drey si fa 60 metri in cost to cost, poi serve al centro per Wreck. La palla finisce fuori dopo l'intervento della difesa viene raccolta da Madonna. Il numero 10 prende la mira con il destro e mette la palla in fondo al sacco dove Furlan proprio non può arrivare. Mentre la San Giorgina festeggia, Mister Cernuta corre ai ripari e cambia setto al suo Trieste Calcio che passa ad un 4-2-4 di matrice più offensiva. Dopo la punizione di Bogoni neutralizzata da Furlan, al 61esimo gli ospiti trovano la rete del pareggio. Un'azione veramente confusa. Dalla Bona svirgola, la palla si alza a campanile, Bergagna non fa meglio. La deviazione favorisce il genio di Benvenuto che con il tacco in venta per Meneghini è entrato proprio per consentire il cambio tattico. Il numero 11 calcia il volo con il destro e non lascia scampo al portiere siglando l'1-1. Proprio nei minuti finali l'ultimo sospiro di questa partita veramente combattuta cross del solito Madonna per la corrente Mattiuzzi, il numero 8, prova a coordinarsi e calciare al volo ma il risultato non è quello sperato. La sfida termina quindi 1-1, la San Giorgina rimane a fondo classifica la Trieste-Victor invece si allontana dal treno di testa. È il momento dell'eccellenza, facciamo un piccolo punto delle squadre che in questo momento siamo a fine ottobre, restano un po' al palo, in crisi. Resta 7 punti, quart'ultima la Pro Gorizia che parte bene, cross di Gustin e deviazione di Marta in vantaggio sul campo del Chiarbola Ponziana, si fa rubare poi palla Politti da Ang e l'arbitro vede questo fallo secondo lui di contento su Sistiani, dal dischetto va Ang c'è un doppio tocco però Bragagnolo di Castelfranco Veneto non lo vede 1-1 le reti di Pisani doppietta portano il Chiarbola Ponziana alla vittoria per 3-1 sale a 10 punti la squadra di Mister Musolino il Tamai torna a vincere dopo 3 giornate sul campo del Rive Flaibano il vantaggio con la bellissima punizione di Bortolin che rivediamo poi non bastano le parate di Lizzi su Grizzo, arriva il tap-in di Bogma e poi grande intervento su Carniello e gol di Grizzo per il 3-0 finale e intanto Rive Flaibano terzo ultimo con 5 punti da fiducia a Mister Rossi ma domenica con la Pro Gorizia è ultimato e adesso ci vediamo il treno di servizi tutte le grandi sfide di questo fine settimana dell'eccellenza partita storica a Muggia con i padroni di casa che battono 7-1 Fiume Veneto-Bannia bastano 40 secondi ad Angelini per siglare il suo primo gol in eccellenza classe 2005 ex primavera Triestina viene servito dal filtrato di Crevating e non sbaglia al quarto Baratì mette in mezzo palla Persellan che lascia Martinuzzi che calcia però alto sfiorando l'incrocio una delle poche reazioni del Fiume Veneto-Bannia si accentra Podgorni che con il sinistro batte Rossetto 2-0 dopo 9 minuti la squadra di Carola trova il Trisa al 27esimo con Pagliaga che recupera palla serve Crevating che va sul fondo palla al centro Vieru autogol giornataccia Fiume Veneto-Bannia poi arriva anche il poker con la conclusione da fuori respinta corta e Pagliaga mette in rete primo gol della sua personale tripletta Sellan calcia poi Dassier doppia parata incredibile di Daniel ma alla fine Dassier trova il gol della bandiera il quinto gol lo segna Pagliaga non possiamo proponerlo qua però il 6-1 assist di Podgornic e Pagliaga chiude la sua giornata con tre gol il rigore procurato da Botter porta sul dischetto Pipan simbolo della risalita del Muggia che chiude questa giornata da record della squadra di Carola con il suo primo gol in eccellenza e festa allo Zaccaria Dopo il pocherissimo di Coppa il San Luigi si fa imbrigliare dall'azzurra si chiuderà 0-0 Carlevaris sulla barriera ancora lui palla carambola addosso a Marzis Pollero anticipa tutti dalla parte opposta Martincic riceve sulla sinistra rientra con il destro il traversone Gashi blocca De Mattia ancora il San Luigi Carlevaris raccoglie la corta respinta della difesa il suo destro fuori di un soffio Carlevaris controlla poco fuori l'area l'apertura per Olio che avanza entra in area di rigore respinge Spollero poi il tapin di Marzi blocca ancora il portiere dell'azzurra De Blasi ci prova lui due volte il primo destro è sulla parte alta della rete poi rientra e con il sinistro sfiora di pochissimo l'incrocio dei pali non riesce a regalare il vantaggio nella ripresa Carlevaris via il turbante non cambia però il fatto sia lui il più pericoloso è il suo sinistro dall'illusione del gol si chiude però sull'esterno della rete poi Olio da due passi manca l'occasione manda fuori nel finale qualche scaramuccia ne fa le spese il San Luigi che resta in nove uomini espulsi Zetto e Falletti si chiude così 0 a 0 con il saluto tra i due allenatori il San Luigi rallenta la sua corsa Tolmezzo e Fagania a braccetto con 13 punti in classifica scontro diretto per i quartieri alti dell'eccellenza il Fagania passa in vantaggio con Righini la botta di Cassin trova sulla traiettoria Ning l'assist involontario per il suo compagno il numero 8 rosso nero che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi Nardoni vola ex di turno a fermare Motta mentre Cristofoli viene ingannato dalla punizione di Ning l'andiamo a rivedere l'esterno destro guardate la traiettoria del pallone il passo di Cristofoli non recupera più palo gol mentre Nardoni continua a parare decisivo su Toso fino al gol del 2 a 1 il pallone giocato al centro da Garbero toccato anche da Toso alla fine lo mette in rete Nagostinis ma il tolmezzo non riuscirà a pareggiare Pagnucco sorpassa Serini e il Fagania è in alto le terze forze del campionato di eccellenza si affrontano quest'oggi nell'anticipo di lusso del sabato qui a Codroipo non si fida ad avanzare cercano ancora il triangolo bravo Bance a liberarsi può andare serve mi ora ancora Bance è servito entra nel rigore Bance il cross la deviazione la rete del vantaggio della Sanvitese che avviene al sesto minuto a destra ancora l'avanzata al limite dell'area di rigore un super gol il 2 a 0 della Sanvitese con il pallone all'incrocio non posso prendere due gol in 22 minuti in una perioda del genere d'accordo quindi io sono il maggior responsabile visto che sono il mister della squadra ma insomma l'approccio alla gara deve essere diverso questa conclusione nelle sette da parte di Trevisan non può nulla Moretti Filippo Copti come ti viene espulso punizione rasoterra tra le braccia di Piasin Fiaschetti il triplice fischio del direttore di gara e dunque la Sanvitese batte con pieno merito 2 a 0 il Codroipo arriva così la prima sconfitta del Codroipo debole in difesa e poco incisivo là davanti nonostante l'esordio di M.Satfi una delusione per mister Pittilino una conferma per mister Moroso una squadra che vuol pensare di deve fare qualcosa di meglio perché eravamo a parire di male col Tamais si è a parire di male oggi e paghi Moroso è giusto che continui a dire che loro giocano per altro ma secondo me lui è bravo e ha dei giocatori buoni io non dico che vinceranno ma perché no non possono pensarci ecco in questo momento non abbiamo la pressione di doversi guardare dietro in questo momento dico poi in una classifica così corta le cose possono cambiare nel giro di due domeniche ma questa tranquillità ce la siamo guadagnata e quindi insomma in questo momento sogniamo ecco Moroso il più giovane mister della categoria ormai sta dimostrando di essere anche uno dei più preparati perché con questa squadra di ventenni e in panchina pensate due 2007 un 2008 un 2006 senza Rinaldi e Pontoni gli attaccanti con cui avrebbe dovuto fare la differenza riesce a continuare a stupire in categoria e no questa San Vitesi non è più una sorpresa è una certezza e il suo allenatore in questo momento può pensare anche di guardare in alto non si arriva per caso a Codroipo e si vince 2 a 0 con qualità e personalità siamo in un momento in cui possiamo ambire possiamo sognare possiamo competere possiamo crescere non ci diamo limiti ecco non ci diamo limiti è un giorno di festa al Tognon si parte con l'omaggio a Salvador per i 100 gol nei dilettanti poi la sfilata del settore giovanile i ragazzi che sono il futuro di una squadra centenaria riempiono il campo e poi si gioca al Fontana Fredda conferma il primato battendo il casarsa dell'ex De Pieri che resta senza vittorie si comincia con il destro di Zucchiatti vola Nicodemo ma l'erba indica la strada per un'altra vittoria dei suoi che arriva così cross di Salvador Zucchiatti prolunga di testa e mette in rete il gol del vantaggio ancora dalla distanza Cesarin respinge Nicodemo poi arriva Salvador la conclusione viene deviata in angolo bella l'azione Grotto cerca Cao pallone al centro Borgobello col destro mette a lato prima del riposo Zucchiatti di testa ancora sfiora il palo nella ripresa Grotto cerca il palo lontano vola Nicodemo il portiere tiene a galla al Casarsa che poi si fa vivo anche con una conclusione di Dimporzano che sfiora il palo ma ecco il 2 a 0 ancora Zucchiatti sempre lui con la specialità l'inserimento su pallenattiva il gol di testa c'è spazio anche per un rigore fallo di Dimporzano su Toffoli ingenuo ma Nicodemo ferma Toffoli confermandosi un pararigori il Fontana Fredda intanto continua a volare chiudiamo la nostra puntata con la serie D dopo il colpo in terra Bergamasca di mercoledì nel turno infrasettimanale cade per mano di un'altra Bergamasca questa volta il Caravaggio il Chions la squadra ospite Bianco-Rossa trova l'immediato vantaggio liberati anticipa Zanini a centra Marin con il sinistro porta in vantaggio i suoi viene festeggiato dai compagni lo rivediamo il sinistro può solo toccare Zanon Lenisa ancora squalificato si dispera per la rete subita reazione Chions il lungo lancio per Manfrond si supera però Pennesi il tapin di Meneghetti è poi alto sopra la traversa lo rivediamo il miracolo del portiere Bergamasco ancora il Chions Meneghetti sfugge a Bernacchi si presenta tutto solo davanti a Pennesi ancora una volta superlativo nel dire di no al Chions risponde il Caravaggio dalla parte opposta liberati l'autore del gol il suo sinistro traversa a negargli il raddoppio lo rivediamo il fendente che viene respinto nella ripresa ci prova Bolgan alto sopra la traversa il suo sinistro nel finale Meneghetti si invola tra le proteste della panchina ospite poi evita un paio di avversari il servizio per la corrente Ba che entra dentro l'area una serie di finte perde però l'occasione per il tiro si salva il Caravaggio il Chions esce sconfitto non riesce a spiccare il volo il campionato del Charlene Smuzzane sconfitto sul campo del Brusaporto ancora una volta in rimonta Steffè in avvio parte alta della traversa dalla parte opposta Silenzi rientra sul destro calcia palla ancora una volta alta poi l'episodio che sblocca il match Camara viene atterrato in area dal dischetto Furlan spiazza Magni fa 1-0 prima dell'intervallo ancora Furlan suo calcio di punizione è alto nella ripresa il Brusaporto subito pericoloso con Silenzi che si divora il pareggio poco dopo però parte dalla sua metà campo lo stesso attaccante a centra per Piccinin che da due passi impatta fa 1-1 1-1 che diventa presto 2-1 l'incornata di Piacentini tutto solo in area vale il vantaggio ci prova nel finale Menato blocca Magni l'ultima occasione con Pegollo il suo sinistro è sull'esterno della rete si chiude con la vittoria del Brusaporto i gabbiani non smettono di volare vincono anche questa sono due in fila per i ragazzi di Mora scontrano a Virtus Ciserano che quando vede Friuli ormai agli incubi due sconfitte in due turni questa con il Brian e la rimonta con il Chions sono proprio i ragazzi di Mr. Morris a partire più forti con Alessio calcio in porta deviazione palo prima occasione per il Brian Lignano calcio d'angolo di Kocic in mezzo il pallone di Kodromaz è capitato ad Alessio atterrato non c'è niente Ciriello mette fuori Virtus Ciserano che non crea molto nel primo tempo due occasioni una con Caraffa su pulizione pallone out e poi Ibe forse con un tocco riesce a girarsi su Kodromaz poi Gotti a botta sicura para un grande Saccone Brian che crea molto di più nel primo tempo e qui Berzotti deviazione poi Ciriello mette fuori una gran girata ancora Brian Lignano sul finale di primo tempo Tarco mette in mezzo Alessio non arriva puntuale all'appuntamento con il gol ad inizio del secondo tempo Saccone lancio perfetto a cercare Berzotti punta l'uomo sterza rientra trova il bomber Ciriello che scarica un mancino a togliere le ragnatele dal 7 1-0 per il Brian Lignano gol fantastico di Ciriello 1-0 esultanza di tutto il Tequil gol fantastico Brian che sembra non volersi fermare tacco di Ciriello Berzotti anche lui a colpo sicuro para un grandissimo Cavalieri ancora Brian Lignano recupera palla con Tarco indemoniato calcia para ancora il portiere della Virtus Ciserano Brian che non si ferma più Ciriello per Berzotti ancora in mezzo per il bomber pallone alato di molto molto poco i Bergamaschi in avanti con Chigiato il classe 2005 terza calcia col Mancino para un attentissimo Saccone per i Gabbiani anche i cambi vogliono incidere dopo un velo di zetto calcia Martini 2005 appena entrato sul finale la Virtus Ciserano ha occasioni per pareggiare la partita prima con Irtelli poi su calcio d'angolo il pallone in mezzo per Ibe il pallone fortunatamente per i Gabbiani esce e finisce così altri tre punti portati a casa per il Brian Lignano esulta anche il presidente Zeno Roma grazie per averci seguito domani 21.10 è tempo di terzo tempo vi aspetto domani ciao